salve a tutti è un po insolito che giochi brutti inizi in questa maniera ma questa parentesi è necessaria sappiate che l'episodio che state per vedere è alla sua ottava revisione perché vuol dire che l'ho upato sette volte avendo sette volte violazioni di copyright diverse quindi sono qui semplicemente per avvisarvi che purtroppo il video di oggi nonostante sia davvero interessante a mio avviso è stato sfregiato in un paio di parti detto questo buona visione ciao a tutti e benvenuti al 58esimo episodio di giochi brutti prima di cominciare vi ricordo che l'uno e il due giugno se volete incontrarmi potete trovarmi al big geek di bari presso la fiera del levante tutte le info le trovate qui sotto in descrizione ancora una volta su questa rubrica torniamo a giocare sulla playstation 2 che come ben sapete ci ha regalato i momenti migliori probabilmente insieme a tutti i giochi prodotti nel periodo di windows xp il titolo di oggi è brats rock angels sicuramente vi ricorderete le brats perché non è la prima volta che compaiono in giochi brutti infatti nel 2014 con l'episodio 35 vi ho mostrato brats for real la differenza diciamo quello che non mi ha dato abbastanza soddisfazione dell'universo brats è che brats for real comunque era basato su un film live action con attrici basato sull'universo di brats questo invece nell'estetica e nell'anima e a tutti gli effetti un film sulle brats cioè non è che questo è un film ma è basato su un film delle brats come del resto appunto era brats for real una piccola nota che vorrei fare prima di cominciare è che nonostante sia destinato ad un target di ragazzine molto giovani il gioco fatto fatica a terminarlo non per la difficoltà ma effettivamente per vari problemi che man mano vedrete cioè in genere questi giochi riesco a concluderli in maniera abbastanza soft semplice brats rock angels ci ho dovuto mettere quell'impegno in più rispetto al solito sulla copertina non c'è molto da dire come magari è successo in passato per altri giochi se non che ho avuto una conferma cioè qualcosa che speravo ardentemente quando ho acquistato il gioco ossia che è presente una localizzazione completa in italiano quindi questo cosa comporta non solo magari un gioco fatto un po ma effettivamente potrebbero esserci errori di traduzione doppiaggio e così via il che rende il tutto molto molto più frizzante beh però basta ora parlare della copertina e fare altre introduzioni mettetevi comodi e andiamo a vedere come è fatto brats rock angels allora c'è da dire che così come per brats for reals anche rock angels è basato su un film che dovrebbe essere il primo mai fatto sulle brats datato 2005 e per ovvi motivi realizzato in cgi come succede anche per altri titoli basati sui film ho deciso anche stavolta di auto punirmi guardandomi anche il film benvenuti alla prima censura per violazioni di contenuti audiovisivi sul video di oggi nell'introduzione del gioco che purtroppo fa parte del film succede che jade l'asiatica delle brats perché sì sono tutti uguali di faccia ma jade stando alla wiki è asiatica viene assunta dalla rivista di moda più in della zona vale a dire your thing diretta da birdie maxwell e condotta anche dalle twiwyl due gemelle con la figa di legno davvero davvero stronzette che succede in poche parole queste due fanno un tiro mancino a jade facendo servire a birdie per pranzo un hamburger mai sia l'hamburger perché composto di carboidrati cose che non può mangiare perché mangia solo insalata e niente la trama è questa birdie si incazza licenzia jade e magicamente si ritrova in mezzo alla strada in rock angels avremo molto a che fare con il telefono e a quanto pare sì non dimentichiamoci che siamo nel 2005 quindi jade son frusking bursmuth vinenktuch vdim cloe prepariamoci a vedere messaggi di testo così per tutta la durata del gioco tolto questo purtroppo noto subito che qualcosa effettivamente non va questo grigio da tutte le parti quell'ombra non proprio al suo posto e la conferma finale quando vado ad incontrarmi con le altre ragazze sì c'è decisamente qualcosa che non va con l'emulatore quando sono questi casi spesso mi rivolgo alla playstation 2 che non usavo da così tanto tempo che al suo interno ritrovato niente po po di meno che battle construction vehicle quindi immaginate purtroppo non sono riuscito a trovare i driver corretti per l'adattatore video per registrare e quindi mi sono messo a smanettare un pochino sull'emulatore della ps2 scoprendo anche sui forum che brazzo rock angels ha effettivamente problemi di emulazione per farla breve il mio bestione di pc ha dovuto lavorare come un mulo per far girare correttamente un gioco per playstation 2 paradossale ma almeno risolto infatti l'ambiente risulterà completamente diverso mentre scrivo appunti senza aver camminato neanche 10 metri mi rendo già conto che questo gioco sarà davvero difficile da digerire la mia vita è finita se non fossi così depressa penso che dovrei selezionare il messaggio di chloe sento così giù che faccio fatica persino a seguire la freccia che punta verso il bar smoothie tolte queste piccolezze capiamo subito che la moneta di gioco sono i bling che a quanto pare si possono raccogliere tranquillamente per strada praticamente in ogni punto uno per volta potremo accumulare denaro per comprare i vari oggetti in game ogni bling trovato per strada vale appunto un bling comunque come prima cosa ricongiungiamoci con le altre brats alle quale diremo tutto il casino che è appena successo la mia vita è finita qual è la cosa migliore da fare in questi casi una festa una festa sorpresa ecco il piano io penso al trucco jasmin tu procura qualcosa di bello da indossare alla festa non puoi certo mettere di buon umore qualcuno se non hai un abito adatto perché tutti sanno che giustamente se devi tirare su di moral un'amica le importerà sicuramente come si vestono e si truccano le amiche porca miseria che cretino io che pensavo alla birra i panzerotti cominciamo dunque organizzare un pochino questa festa per jade ma ogni volta che entro in un qualsiasi negozio parte il dramma come si può intuire rock angels è pieno di canzoni della colonna sonora del film e del gioco quindi a youtube non va bene questa cosa allora ogni volta che entro in un negozio e parte la musica corro subito a cercare dove si trova lo stereo e vado a spegnerlo peccato comunque perché volevo farvi sentire quanto sia impossibile ascoltare i dialoghi a causa della musica davvero sparata al massimo comunque se mentre prendevo appunti stando fermo all'inizio sono stato inondato da messaggi depressi ora si è fatto subito spazio all'isteria pronto il tasto triangolo e questa frase ti esce tipo ogni 5 secondi che non premi quel che ti dice di premere va bene che forse alcune ragazzine possono essere dure di comprendonio però in alcuni punti è davvero troppo insistente camminando per strada mi capita di ritrovare di nuovo dei blinks e non posso fare a meno di notare una cosa molto irritante ecqui da qualche parte e un gettone interessante meglio raccoglierlo potrebbe tornarmi utile più avanti ma non avevamo già avuto una spiegazione su come funzionassero le monete e in effetti una delle cose più fastidiose che ci possono capitare nel gioco sono proprio quelle maledette monete che troveremo in giro da tutte le parti ogni volta che ne prendiamo qualcuna con neanche troppa distanza l'una dall'altra ogni braz dirà una frase tutorial per farti capire che quei cosini si chiamano blinks e che puoi usarli come moneta sempre quindi per la mia sanità mentale ho evitato quasi tutto il tempo di recuperare queste monete e ci ho vissuto benissimo ma vi spiegherò più avanti il motivo cominciamo a vedere una delle prime caratteristiche che ci offre il gioco non puoi andare avanti nel mondo delle braz se non usi un po di trucco quindi andiamo a vedere subito dopo aver prontamente spento lo stereo nuovamente dove comprare le truss badate che in questo punto non hanno solo ripetuto tipo in pochissime frasi 3000 volte la parola truss ma hanno fatto praticamente uno scioglilingua con truss truss treasure devi comprare una truss dai un'occhiata al bancone delle trusse là dietro posso comprare delle nuove truss dal bancone dietro l'angolo le truss da comprare sono tantissime ma io voglio la treasure oggi mi serve proprio la truss treasure è la truss che abbiamo ora dobbiamo passare alla truss treasure premi il tasto x sulla piccola icona sotto alla truss che abbiamo attualmente devi selezionare la truss treasure prima di selezionare ok stranamente adesso sento il bisogno di comprare una truss treasure una truss tre una truss una truss treasure ok vi salto tutta la lentissima ed inutilissima parte dei tutorial su come funzionano i vari tipi di trucchi per mostrarvi invece quanto potenziale ci sia da quel minimo di libertà che il gioco ti concede spesso in questi giochi si possono utilizzare dei preset di trucco in rock angels invece non solo possiamo scegliere la palette di colori da utilizzare ma possiamo letteralmente disegnare con vari colori nei vari punti è inutile dire che in questo momento mi ci sia messo particolarmente di impegno per mettere su un capolavoro d'arte moderna o mossi adesso dobbiamo andare a incontrare sasha nel centro commerciale e dopo un paio di ciao to vb xxx la raggiungiamo niente male per zona falsa comunque vi ho detto poco fa che lo spam dei messaggi all'interno di questo gioco è così insistente da rendere instabile la più paziente delle persone a volte capita che i messaggi vengono spammati anche più di una volta non distrarti banni bu devo solo selezionare jade nella rubrica e chiederle dov'è non distrarti banni bu devo solo selezionare jade nella rubrica e chiederle dov'è non è passata manco mezz'ora e vorrei già esplodere ad ogni modo riusciamo a organizzare questa festa per jade e ci approcciamo al primo che poi a posteriore posso dirvi che è anche l'unico minigame presente in rock angels le pose in questo precursore di balli di fortnite potremo letteralmente premere una combinazione di tasti per effettuare tutta una serie di mosse che le brats possono effettuare tra l'altro all'inizio mi stavo sentendo anche un babbeo perché inizialmente ti fa provare liberamente ad assumere particolari pose e quindi provi tasti a caso per vedere cosa esce poi quando ti fa fare il test per vedere se hai capito pareva che non avessi in realtà capito nulla perché qui mi diceva di fare la sequenza x cerchio e quadrato e premendola non succedeva niente e mi ripeteva che facevo cagare e dovevo riprovare dopo mezz'ora che sbagliavo e risbagliavo poi ho capito che in realtà la mossa non era unica ma era solo x solo cerchio e solo quadrato erano tre mosse differenti dai probabilmente chiunque abbia mai giocato a basta groove si sarà veramente sentito ferito nell'orgoglio nel fare un minigioco di questo genere poi come accade in ogni festa dove si alza un po più il gomito arriva la pensata del secolo perché non ci facciamo una nostra rivista di moda potremmo avere la nostra rivista potremmo parlare di moda di certo non parli di cavalli in una rivista di moda o forse si potrei curare la rubrica dei consigli e io potrei parlare di temi importanti e di trend e io potrei coordinare la redazione ban e boo ok ok la redazione musicale solo io ho notato una puntina di razzismo in queste ultime battute il gioco ritornato ben ritrovati alla seconda censura di braz rock angels in questa parte le nostre braz hanno finalmente trovato un edificio all'interno del quale costruire lo studio purtroppo si tratta di un rudere queste se ne lamentano e non ridiscono però c'è da dire che effettivamente è stupendo ha una visuale sensazionale sulla città però avrà bisogno di tipo 90 mila euro di ristrutturazione praticamente queste qua però dalla sera alla mattina hanno già preparato tutto what the fuck finisce così però devo dire che il tono che danno alla fine all'ufficio mi ha fatto venire molta nostalgia perché molto colorato e soprattutto molto anni 2000 così come anni 2000 e l'affermazione a fine scena il computer vi dirà quale sarà il vostro primo articolo fa sempre strano vedere in un videogioco moderno il preconcetto antico che le macchine conquisteranno l'uomo e che i computer ci daranno comandi sempre camminare nell'ufficio sarà fastidiosissimo perché ogni volta che passeremo di fianco a una collega questa ci riempirà di complimenti dai più tranquilli ai più cringe qualcuno chiami la polizia della moda hai trasgredito tutte le regole con quel completo dopo aver capito che questo gioco e la gestione della telecamera e i comandi non vanno proprio d'accordo tra di loro e anche fare il più semplice dei tragitti diventa infernale capisco che il gioco funziona a minicicli dove ogni ciclo è dato da una missione diversa che ogni brats dovrà eseguire che poi fa ridere che di tutta una città le brats abbiano comprato l'ufficio non solo nello stesso palazzo ma nello stesso pianerottolo di your thing la rivista dove jade è stata silurata che ci fai qui sciacquetta ma cos'hai addosso c'è ancora qui e vattene se ti volessimo come amica saremmo gentili con te ricevuto il messaggio quando la vostra rivista andrà in fallimento useremo le sue pagine per la cesta dei bisognini di royale quindi ogni passaggio in ufficio corrisponderà una blastata random dalle tui vol mentre per strada toccherei vari marpioni che circolano ehi jade vuoi fare scalpore immagino scusa ma che doppiatore ha pioppato il ragazzino che tempo magnifico in questi giorni vero c'è non solo usa frasi da rimorchio degne di un cinquantenne ma vorrei giusto ricordare che nell'universo brats i personaggi hanno tutti circa 15 anni e se andate a sentire il doppiaggio del film capirete quel gap di diverse generazioni tra la voce italiana e quella in inglese ma poi è bellissimo come ognuno dei ragazzi in giro farà il ragno ad ogni passaggio delle brats ciao jade va di moda questo di questi tempi ehi sasha bella giornata vero wow che abbinamento come butta sasha sei perfetta wow voi ragazze dovete avere molta pazienza che poi la cosa stupenda è che troveremo anche delle ragazze queste invece ci faranno sempre un mare di complimenti sui vestiti o sul make up anche quando faremo veramente schifo e quindi capiremo di che bella gente sincera ci siamo circondati cioè avete presente quegli esperimenti sociali sulla ragazza che cammina per strada e riceve avance da chiunque succede la stessa identica cosa cioè credetemi arriverà a un certo punto che non cioè io non ce l'ho fatta più per i complimenti che poi iniziano a diventare sempre gli stessi e che collezioneremo in ogni posto che passeremo ciao jade stai bene ehi jasmine quel complato è semplicemente perfetto siamo proprio carine oggi vero è inutile dire che tipo per tutta la prima ora del gioco più che effettuare le missioni per così dire della main quest abbia passato un sacco di tempo ad esprimere la mia arte sulle brats non solo sotto forma di make up ma anche di abbinamenti improbabili di vestiti insomma da gran fighe a clan dei pagliacci il passo è stato veramente breve poi ho notato anche che si può cambiare la capigliatura ma inteso non come acconciare i capelli e basta ma possiamo utilizzare solo i tagli di capelli di default di ogni brats quindi in poche parole avranno i capelli interscambiabili ma ci sono anche i capelli biondi delle TwiVol quindi perché non farci tutte la stessa capigliatura così da aumentare il nervoso e soprattutto la confusione tra di noi tra chi e chi è bellissimo come poi ci siano le frasi default di gioco sulla nostra bellezza quando in realtà sembra ci sia passato in faccia un camion cioè credetemi non mi divertivo così tanto con le decorazioni dei tempi di Need for Speed Underground la nostra prima missione con Sasha sarà parecchio fastidiosa oltre che stupida Sasha si occupa delle recensioni di album musicali e per cominciare vuole scrivere qualcosa sui cd che ha a casa anzi avrebbe dovuto avere a casa perché questi li ha prestati e qui abbiamo nuovamente un reality check su quanto siano affidabili e rispettosi i nostri amici sì in effetti avevo uno dei tuoi cd ma l'ho dato a Fianna stai cercando i tuoi cd? in effetti me ne hai prestato uno era proprio fortissimo però l'ho prestato a Dylan mi spiace Sasha in effetti avevo uno dei tuoi cd ma l'ho dato a Cameron spero che non sia un problema avevo uno dei tuoi fortissimi cd ma l'ho prestato a Ethan il tuo cd? penso che ce l'abbia mia sorella brava Sasha che sa sempre come farsi rispettare insomma qui si tratta del classico gira per la strada, trova le persone e fatti dare i cd benissimo facciamo sto giro di peppe e recuperiamo subito il maltolto però vorrei farvi notare una cosa ricordate la storia dei blinks? le monete? quelle che raccoglieremo una per una nella strada casualmente? guardate quanto si ricava da una missione anche da quelle meno importanti cioè 1500 blinks che se li vuoi raccimolare uno per uno per strada ci impiegherai forse una settimana ma allora che cacchio di senso ha disseminarli così in giro quando in realtà la loro raccolta non serve praticamente a niente ecco cosa si intende per compito inutile fatto per distrarre la raccolta dei blinks che troviamo in giro infatti non servirà a niente perché se li raccoglieremo o meno pur comprando tutti i capi d'abbigliamento presenti nel gioco non arriveremo mai a spenderli tutti quindi se giocate a Brazz Rock Angels non raccogliete i soldi da terra questa che avete visto era una missione principale ma se quelle per così dire importanti sono così come sono invece quelle secondarie? mi sono perso l'articolo su cui stavo lavorando per la rivista non è che potresti aiutarmi a recuperare le pagine? fai sul serio fratello? fa sul serio il fratello così come sul serio lui rimane fermo a guardarci mentre raccogliamo le pagine del suo articolo che si trovano letteralmente ai suoi piedi perlomeno questa boiata di quest fatta in pochi secondi ci ricompenserà con ben mille blinks questo sempre per la questione di poco fa sull'inutilità dei blinks una volta che avremo completato ogni quest di ogni ragazza ci sarà una piccola novità ed una nuova missione da affrontare ehi ragazze ricordate la posta che Burdini mi ha fatto buttare quando lavoravo per lei? c'era un invito incredibile Jade la giornalista di moda più in del momento ha lo scoop più scoop della storia e poi dicono a me che esagero non crederete mai a quello che ho trovato? ditelo degli inviti per il concerto dei Crash Alpins il più spaziale, galattico, oltradimensionale club del mondo ma smettila e non basta è tutto pagato il viaggio e anche una suite in un albergo 5 stelle a Londra ma dai ma se andiamo a Londra wow che forza siamo una forza andiamo a Londra allora ragazzi capiamoci questi biglietti più l'invito sono stati letteralmente presi dalla spazzatura di qualcun altro e riutilizzati quindi teoricamente questo è rubare comunque prima di partire per Londra occorrerà terminare il numero in uscita della nostra rivista e siccome Chloe l'ha detta ai trucchi affronteremo di nuovo un'altra sessione di make-up subendo nuovamente la sindrome del tutorial di cui questo gioco soffre parecchio perché se il make-up è stata la nostra primissima cosa che il gioco ci ha fatto fare adesso dovremo rifarla da capo con un tutorial che ci spiega le cose in maniera ancor più prolissa specie se le traduzioni dei testi scritti e anche di quelli parlati non combaciano manco fra di loro perché avremo la voce del tutorial che dice premi il tasto x su comincia a truccarti per cominciare mi sapete dire dove cacchio si trova il tasto comincia a truccarti poi capisci che in realtà voleva dire colori per il viso e poi cliccare su cosmetico nella tabella che avremmo fatto aprire dio che disperazione alle volte poi tra l'altro avevo già deciso lo stile faccia di bronzo di Chloe ma questa volta la voce ci dice una cosa più importante si possono applicare dei tatuaggi da viso preimpostati per rendere ancor più bella la nostra Bratz porca miseria potevi dirmela prima una cosa così preziosa? appena rientriamo in ufficio pronte per partire la volta di Londra scoppia un altro dramma le TwiVol si sono introdotte nel nostro ufficio per sottrarci i biglietti che non intendono ridarci che poi se vi fermate a pensare un attimo è anche legit che siano stati recuperati magari non è stato corretto intrufolarsi nell'ufficio e fregarli però alla fine abbiamo ristabilito l'ordine delle cose a questo punto uno capisce che è stato sgamato e quindi dovrebbe tornare a farsi i fatti suoi e procurarsi da solo i contatti per poi farsi invitare un evento esclusivo come quello di Londra e invece ho un piano talmente pazzo che potrebbe funzionare dicelo prima di tutto dobbiamo allontanare le TwiVol se facessimo un volantino che pubblicizza dei finti saldi in rosa ci cascherebbero di sicuro fake news poi poi ci vestiamo da TwiVol ed entriamo negli uffici per riprenderci i biglietti scambio di persone appropriazione indebita sì mi sembra un ottimo piano per concludere la carriera col sole a strisce vestirsi da TwiVol ma io vi ho già conciato da TwiVol non ricordi? mettiamo in atto il piano malefico vestiamoci completamente da TwiVol in maniera tale da ingannare l'unica sorella delle due rimasta di guardia in ufficio e cerchiamo di portare via i biglietti per Londra quindi con passo felpato in tacco 16 su tappeto rosa in una stanza dove è sparata della musica classica l'unico ostacolo che può far svegliare la capa sono i fogli di carta disseminati per lo studio perdice rosa sto dormendo perdice rosa sto dormendo comunque recuperiamo i biglietti grande hype per Londra prepariamo i bagagli ma cerchiamo prima di terminare il numero ciao col cazzo ehi ma voi chi vi ha detto che potevate togliervi il trucco? vabbè lasciamo stare per qualche strano motivo a questo punto del gioco l'emulatore ha deciso che si era rotto le scatole di Bratz e ha cominciato a farmi capire che non dovevo continuarlo ciao benvenuto a World Tour spengo tutto miglioro qualche settaggio provo a ricaricare la partita e per fortuna dopo qualche bestemmione un paio di cazzotti finalmente posso continuare ritorniamo alla World Tour per cominciare il nostro viaggio per Londra che dura esattamente due secondi e ci siamo come hanno detto prima le ragazze siamo in città per assistere come esclusiva stampa al concerto di questi fantomatici crash ma non appena giunti in albergo giunge anche il drama i crash si sono sciolti cioè minchia hai lo scoop più scoop della tua vita e ti lamenti porca miseria siete fortunati a trovarvi lì nel momento giusto nel luogo giusto ma invece che gioire per la notiziona che vi siete casualmente trovate davanti ecco l'idea geniale per rendere tutto ancora più trionfale con che proiettili vi devo venire a cercare? va bene si è capito che queste sono matte con un concerto tra poche ore vogliono sostituirsi a una band che si è appena sciolta davanti a un pubblico che probabilmente si starà lentamente suicidando per la notizia la prima preoccupazione è sempre la stessa vestiti quindi cerchiamo di acquistare qualche capo della linea Rock Angels amo quando viene citato il titolo del gioco come sempre questo tour comprende personaggi e testi non sempre ragionati o vagamente intelligenti vieni dagli Stati Uniti? ho un amico che vive in Florida magari lo conosci e così sei americana ma è vero che per voi le patatine fritte sono alla francese? girl raccattiamo questi blasonatissimi abiti della collezione Rock Angels momento nostalgia per la panza scoperta il pantalone a zampa e lo stivaletto in pelle e dirigiamoci subito al teatro dove ci aspetta il nostro concerto organizzato due ore prima per sostituire un gruppo pop che si è appena sciolto bene sarete fortunate se non vi strappano la pelle di dosso comunque fa sempre ridere come effettivamente il passaggio Stati Uniti Londra di prima sia stato effettivamente un warp perché non sapendo effettivamente dove si trovasse il teatro ho provato a prendere la metro per vedere se fossero presenti altri posti ma la metropolitana ci riporta direttamente negli Stati Uniti all'agenzia di viaggi oh scusa ho sbagliato fermata di 8000 km troviamo alla fine il teatro con le ragazze e come accade per un sacco di altre attività simili all'interno di questo maledetto gioco parte la routine pallosissima del disegnare un poster dedicato per annunciare l'evento mmmm London dopodiché abbiamo tipo tre minuti di tempo per girare tutta Londra così come dicono le altre brats per tappezzare la città di manifesti quando in realtà abbiamo addobbato sia e non mezza piazza ed infine occorre prepararsi per lo spettacolo ora questa parte che potrebbe sembrare normale e tranquilla è in realtà una rottura di palle non solo per il fatto che occorre vestire e truccare ogni brats con i giusti set di vestiti e make up finché fosse così rapido sarebbe bastato fare tutte le tipi uguali cosa che ho fatto e poi andare subito in scena il problema è che ogni andata e ritorno dalle opzioni ci richiederà un caricamento bello lungo quindi se consideriamo che si tratta di una cosa semplice e per essere in regola con l'andare avanti nel gioco dovremmo scegliere la prima brats entrare nel menu vestiti uscire dal menu vestiti entrare nel menu make up uscire dal menu make up vi risparmio i calcoli ma per agghindare tutta la band sono richiesti non meno di 16 caricamenti senza contare quello precedente e quello successivo alla schermata di selezione delle brats follia dopo aver perso tanto tempo ad agghindarle e soprattutto averle messe in tiro vediamo queste ragazze come affronteranno il palco con la loro band quindi mi stai dicendo che al posto di un concerto ci siamo piazzate noi a sparare qualche balletto alla fortnite mi pare proprio di sì sì stiamo sparando pose e balletti alla fortnite davanti a un pubblico che piange lo scioglimento della loro band preferita ma scusate io capisco eventualmente fare una sfilata cioè no bugia non lo capisco ma sarebbe stato comunque qualcosa immaginate di andare a teatro e trovarvi quattro tizie x che sparano pose a caso una alla volta penso la scena si commenti da sola non devo aggiungere niente ad ogni modo una volta finito il concerto senza alcun motivo apparente ci troveremo davanti al nostro primo numero della rivista appena completato con tanto di to be continued che poi ho scoperto essere banalmente le missioni secondarie che fortunatamente non ho accettato di fare meno male tanto di blinks oramai siamo pieni per poter comprare tutto il palazzo dove lavoriamo abbiamo venduto più di your thing ok dopo questa fantastica notizia torniamo alla nostra routine uguale identica che abbiamo già fatto dall'inizio del gioco piglia una bratz fai la sua main quest che servirà per scrivere un articolo poi fai qualche quest secondaria cambia bratz ricomincia ecco qualcosa di semplice servizio di pose con vestiti ad hoc recati all'heimelite club poi chiama le tue amiche bratz e posizionati sul faretto per iniziare una speciale danza di gruppo ok sarà fatto dirigiamoci al posto e vediamo cosa dobbiamo fare scusa recati all'heimelite club poi chiama le tue amiche bratz e posizionati sul faretto per iniziare una speciale danza di gruppo oh il faretto c'è il posto dove fare le pose c'è forse devo mandare un messaggio ad ognuna per farle venire mezz'ora a mandare gli sms e ricevere la risposta niente faccio partire il gioco con le mosse ma a quanto pare ballo io da sola però allo stesso tempo scopro che fare mosse così a caso si rivela in realtà una farm di soldi infiniti perché tipo in 30 secondi di minigioco possiamo tirare su un bel po' di soldi e praticamente campare solo di questo ma non siamo qui per parlare di come fare soldi ma di andare avanti nel gioco ad un certo punto comincio a chiedermi ma sono nel posto giusto andiamo fuori e vediamo l'insegna ah ok ho sbagliato completamente posto benissimo un altro difetto enorme di questo cacchio di gioco è che se volessimo capire in che negozio andare senza consultare la mappa che si trova non addosso a noi ma guarda caso fuori dal centro commerciale sarà veramente difficile perché uno i font dei nomi sono veramente fatti male e spesso manco si riesce a leggere due non possiamo spostare la telecamera in verticale e infine tre quasi tutte le insegne dei negozi sono messe davvero troppo in alto e quindi se ci troviamo davanti a un negozio per capire dove stiamo per entrare dobbiamo andare dall'altra parte della strada e sperare che si legga l'insegna trovo finalmente il limelight che giustamente è una discoteca e il gioco comincia in automatico quando ci piazzeremo al centro della pista cioè madonna mi sento uno stupido di aver girato come un cretino per mezz'ora dentro il negozio e ho mandato pure le sms a tutti che enormi avete presente il fatto che in ogni negozio o ambiente che entro c'è sempre lo stereo da spegnere perché altrimenti youtube mi fa saltare in aria per il copyright sempre lo stesso stereo orribile azzurro bene pure tutto l'impianto pompatissimo della discoteca è gestito sempre dal medesimo stereo budget grazie stereo grazie per aver salvato la mia monetizzazione usciamo di qui e vediamo di capire se le missioni secondarie sono diventate un minimo più sensate ed elaborate che complato favoloso ma sono vestita così da tipo due settimane sai sono così stufa di vedere quelle top model di plastica in posa sulle riviste sono così rigide voglio vedere in posa ragazze vere come voi vabbè ho capito che oramai il massimo minigioco a cui possiamo ambire che ci farà guadagnare anche più cash è sempre quello di posare lasciamo perdere tutte le missioni secondarie che riguardano il posare e andiamo avanti con le quest principali c'è un nuovo tipo di collana tempestata di gemme che sta andando molto di moda ho visto almeno tre ragazze che la portavano dovrei parlarne in un articolo prima che tutti ne abbiano una non devo far altro che trovare le ragazze con la collana e premere il tasto cerchio per prendere la macchina fotografica ti prego la missione ricerca oggetti no ti prego ricerca oggetti no non voglio andare in giro a cercare gli oggetti ti prego ricerca mission in questa missione ricerca dobbiamo girare in cerchio per tutta la mappa per trovare tre ragazze che indossano la collana di perle e fotografarle non dimentichiamoci che ogni personaggio può cambiare location ad ogni passaggio di zona che faremo quindi ogni caricamento immaginatevi che bello avere per esempio la zona A B e C che ci gireremo in ordine solo che noi siamo in A e dobbiamo andare in B la ragazza da cercare è in B quando c'è il caricamento nostro per passare da A a B potrebbe succedere che l'obiettivo passi da B ad A quindi dobbiamo solo avere molta pazienza e come sempre affrontare un mare di caricamenti probabilmente la cosa che ho più visto in questo maledetto gioco dall'inizio alla fine ok terminiamo anche questa missione e torniamo in studio sul successo della rivista hai ragione non ci aspettavamo un simile boom è andato così bene che ci è stato chiesto di seguire in esclusiva la sfilata di Hulala a Parigi la prossima settimana quando mi hanno cacciato da Your Thing non pensavo che in poco tempo Bratz avrebbe venduto di più non riusciamo a credere nella nostra fortuna 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 per Dincirosa le ho insegnato tutto quello che sai alla faccia tosta di vantarsi nel suo successo in radio non so voi ma fino a quando Burdin non ha fatto notare che la voce proveniva dalla radio non stavo precisamente capendo cosa stesse succedendo apprestiamoci ad affrontare altre quest principali per poi cercare di arrivare a tutti come sempre passando davanti alle TwiVol costantemente nel pieno rotto del nostro stesso piano che vuoi sciacquetta? io beh aspetta ma mi ha fatto un complimento ehi Chloe come va? non posso manco tornare indietro per capire se ho sentito bene mi spunta sempre l'allupato che campera l'ufficio 24-7 insomma il tizio per aiutarci ad essere più veloce ad andare in giro per la città ci consiglia di utilizzare i pattini e per imparare ad usarli dovremo superare una prova a tempo per mezza città sui suddetti il problema è che sono davvero rotti in primis perché il tizio non ci spiega come funzionano infatti per andare più veloce dovremo premere quadrato a ripetizione altrimenti andremo praticamente più lenti che a piedi ma soprattutto sono quasi del tutto incontrollabili cioè da veterano di Tony Hawk Pro Skater mi sono sentito davvero offeso nell'essere impedito a girare su dei pattini che non riescono a fare manco una curva stretta ma manco se li paghi e quindi ci beccheremo ogni genere di ostacolo specialmente nei luoghi più stretti beh almeno con i pattini la fisica classica non ha potere infatti possiamo farci bordi di marciapiede dislivelli e addirittura salire le scale mobili sì alla fine ho scoperto che in teoria sei più veloce ma all'atto pratico perdi più tempo a divincolarti dagli ostacoli che a raggiungere effettivamente i punti che ti interessano bocciati e mai più utilizzati ah ora che ho finito la missione posso finalmente tornare in studio e vedere se le TwiVol hanno effettivamente cambiato finalmente idea su di noi sono semplicemente diventate bipolari all'improvviso ma andiamo avanti con le missioni ho sentito dire che in città si sono persi degli animali pretty princess al salvataggio devo trovarli e riportarli nel parco è una storia commovente ok altra missione rotta i suddetti animali sono tre conigli che semplicemente sono usciti dal giardino dello zoo cosa che non mi sorprende dato che non c'è una barriera tra lo zoo e il resto della città comunque la cosa rotta è che il gioco ci consiglia di avvicinarci alle bestie di soppiatto tenendo premuto il tasto X e riuscire ad avvicinarci il problema è che premendo X non succederà niente e come risultato le bestie scapperanno in continuazione per riuscire nell'intento devi letteralmente premere il tasto direzionale poco alla volta ottenendo quel fastidioso effetto a scattoni premere un tasto per guardare intensamente negli occhi l'animale che per qualche motivo ci seguirà e deciderà di rimanere tranquillo e contento nello zoo e vb ragazza cara ma io ti voglio bene però mi spieghi quale cacchio d'amico ti strappa un libro d'algebra butta i suoi piedi le pagine e ti chiede di recuperarle tra l'altro questo tipo di missione che abbiamo già visto in passato ce la ritroveremo tipo altre cinque volte per tutta la durata del gioco anche questa è andata possiamo finalmente volare a Parigi volare prendere il warp dell'agenzia di viaggi e spuntare all'uscita random di Parigi e devo ammettere che la zona di Parigi è molto più esilarante di Londra perché è davvero piena densa di stereotipi e cose così sbagliate da farti venire il mal di testa in primis si può notare che in questa piazzetta si può accedere solamente con la metropolitana perché non c'è via d'uscita a piedi cioè praticamente siamo in una maledetta trappola ho provato a girarmi tutta la piazza l'unica uscita che c'è è la metropolitana poi da un lato abbiamo la torre Eiffel e a poche centinaia di metri dall'altra parte abbiamo l'arco di trionfo ora non so se sapete com'è fatta Parigi ma tra le due strutture c'è una bella distanza e di certo specie la torre Eiffel non ha palazzi nelle sue vicinanze ah ma gli stereotipi comunque non finiscono qui ci sono anche i francesi ed il loro romanticismo sei una gemma rara da trattare con riguardo non basterebbe un milione di anni a un milione di poeti per descrivere anche solo una piccola parte di te vorrei essere un artista per poter riprodurre la tua bellezza e poi vendere le ristampe come cartoline non sono sicuro che quest'ultima sia stata proprio il massimo del romanticismo si visita bene per essere un'americana e tu parli molto bene l'inglese per essere americana ad ogni modo pensate che questa volta tutto andrà per il verso giusto e andrà tutto liscio si siamo sul posto c'è scritto Pink Industries hanno comprato l'edificio e non ce n'è un altro a Parigi quindi capiamo a Parigi chiude un teatro e all'improvviso non ci sono più posti dove poter fare sfilate a Parigi a questo punto vi faccio come sempre un mega riassunto di tutto quello che succede adesso perché vi giuro vi farei vedere praticamente lo stesso identico video che avete visto fino ad ora ripetuto da capo perché il gioco diventa di una monotonia disarmante credetemi la prima donna di Your Thing non si è limitata a rompere le palle con una persona normale ma si è presa addirittura la briga di comprare l'intero teatro per non far esibire nessuno questo lo veniamo a scoprire perché in zona troviamo le TwiVol ma perché mettono le serie scomode nei cinema e che ne so sono ancora sconvolta da come sono fatti i gabinetti da queste parti come scusate TwiVol che stranamente al posto di fare le antipatiche come al solito ci suggeriscono un modo per costringere Bourdine a far aprire il teatro questo come con il buon metodo corona ossia fare una foto alla direttrice mentre si sta facendo la maschera e minacciare di pubblicarla con le buone otteniamo la riapertura ma veniamo a sapere che tutte le modelle oramai se ne sono andate a casa ed indovinate chi dovrà sostituirle è ora di fare shopping quindi solita manfrina di comprare i vestiti cambiarsi disegnare il poster disseminare i suddetti poster in città come cazzo ti permetti cioè ragazzi io sono scioccato cioè veniamo riempiti di complimenti dall'inizio alla fine del gioco da chiunque e questa tizia per la prima volta ci offende il bello è che ho provato a passarle di fianco tantissime volte ma quella voiceline non l'ho mai più sentita credetemi ci ho provato per diverso tempo non è più uscita lasciando da parte tutto questo abbiamo poi la solita cabina dove perdiamo mezz'ora per vestirci trucco parrucco sfilata dove sentiamo gente che si strappa i capelli ma ai piedi della passerella e comunque sugli spalti non c'è nessuno come sempre poi si ritorna finalmente alla normalità nel nostro studio negli Stati Uniti a questo punto ci stiamo avvicinando alle fasi conclusive del gioco non prima di aver affrontato un altro gruppetto di missioni dove si devono fare sempre le solite cose disegnare manifesti disseminarli in città cercare pagine che perdono gli altri fotografare cose come per esempio quando prendere come scoop speciale una nostra amica random che si incontra con un tipo belle amiche di merda aggiungo e poi la grande frustrazione di non poter disegnare liberamente sulle magliette ma doversi accontentare e dover avere tanta fantasia se vogliamo creare delle opere d'arte sulle suddette magliette carina finisce il ciclo di missioni ed arrivano un sacco di lettere interessanti in redazione dove ogni braz è stata chiamata per continuare al meglio la sua carriera una è stata aggiunta come DJ a Londra un'altra ancora tutto pagato alla miglior scuola di moda di Parigi mentre l'altra invece ottiene un lavoro da sogno non ben specificato e la nostra Chloe? Chloe invece si attacca al c***o e cercherà lavoro altrove però prima di separarsi le braz vengono invitate a fare l'ultima sfilata insieme al cosiddetto villone dove a quanto pare vengono organizzati gli eventi più esclusivi ed anche qui disegna poster stampa metti manifesti vestite e andiamo a fare quest'ultima fatica scusate scusate colpa mia non c'è scritto arcore dell'evento evito di parlarvene tanto voglio dire sempre uno show off di pose cringe si tratta solo che questa volta abbiamo ben quattro e dico quattro sequenze per ognuna delle braz quindi perdiamo un sacco di tempo per un'esibizione che richiederà impegno zero per eseguirla perfettamente così è finita madonna sì e invece a quanto pare c'è dell'altro no non puoi vedermi così te ne devi andare così il tuo lavoro da sogno era per Burdine drama che poi mi ha fatto ridere quel non puoi vedermi così quando in realtà quei capelli glieli ho messi in testa dall'inizio del gioco e tra l'altro ce li ho anch'io in sostanza questa cretina ha firmato un contratto con Burdine senza manco leggerlo dove praticamente diventa schiava della suddetta fino alla fine dei suoi giorni e venendo pagata briciole beh però se vogliamo essere sinceri Burdine in questo caso ha ragione da vendere non solo sempre con l'agenzia di viaggi andiamo a pescare le altre due in giro per il mondo dove troviamo Yasmin che in realtà non ha avuto la borsa di studio ma si è messa a vendere fiori e Sasha a Londra invece che fine ha fatto? ok abbiamo scongiurato il peggio Sasha invece si è ritrovato a fare qualcosa tipo vice sostituto aiutante le capieri del dj di punta ed anche qui come sempre c'è lo zampino di Burdine che però c'è da dire una cosa stronza quanto vuoi ma riesce ogni volta a fregarle sempre queste quattro ragazzine vè? ritorniamo subito da Burdine per cercare di liberare l'ultima bratz rimasta legalmente aggiungo bloccata nello studio di Burdine qualora non si fosse capito perché effettivamente non è molto chiaro le pagine del contratto volano via dalla finestra e si disperdono nel piazzale e indovinate cosa bisogna fare se ci sono delle pagine in giro ci tocca recuperarle parte a questo punto il gioco finale dove faremo a gara noi coi pattini e Burdine in tacco 15 e 50 anni a chi recupera prima le pagine perché si sa se perdi un contratto altrui e lo distruggi questo non è più valido quindi compiamo quest'ultima missione e una volta liberata la nostra amica finalmente direi che il gioco è finito giusto? e invece no dobbiamo fare un'altra esibizione insieme sempre al villone quindi tutto quanto da capo a far manifesti sessi identiche cose le missioni porca miseria mi sono fatto pure male vi risparmio la fatica di riguardare il riprendersi degli eventi ancora una volta cosa così ripetitiva che addirittura se andremo a vedere la tab delle missioni del nostro cellulare anche lui ci dirà sai già cosa fare il che la dice lunga e anche il telefono quindi ci piglia per il culo quindi spero che questo finalmente sia il nostro ultimo spettacolo e per fortuna lo è dato che questa volta non dovremo fare uno show di pose improvvisate come sempre ma un vero e proprio concerto suonato e cantato senza aver mai toccato uno strumento in vita loro però dai alla fine è andata così nel film almeno viene mostrato che imparano a suonare formano una band in maniera più o meno normale ma mentre vedevo le immagini del film riproposte nel gioco noto qualcosa che non va non vi sembra strana una cosa le brazze sono cinque ehi ehi frena aspetta o sono io che non so più contare o qui c'è qualcosa che non va sì sono effettivamente cinque ma anche nel film se ci fai caso sono cinque sul palco ma per tutta la durata del gioco e del film ne ho sempre contate quattro che tipo di stregoneria è mai questa? cioè credetemi ragazzi il mistero è diventato così reale che sono andato addirittura a leggermi forum dell'epoca e la wiki delle braz per far chiarezza sulla cosa e viene effettivamente fuori che la quinta braz compare solamente nel concerto finale e nel film fa solo qualche piccola apparizione così come nel gioco come personaggio da questa secondaria si parla di Roxy e lei la quinta braz inizialmente doveva esserci per tutto il film ma in realtà viene mostrata solamente nel concerto finale quando in realtà rimane anonima per tutta la durata non si smette mai di imparare non penso ci sia altro da aggiungere Braz Rock Angels è il classico gioco prodotto per far vendere bambole e accessori dell'omonimo brand vengono mostrate tutte le collezioni nuove dell'epoca sei costretto ad acquistarle in gioco in maniera tale che tu le veda e ti piacciono per forza non c'è niente di strano a livello di pubblicità perché alla fine questo gioco è nient'altro che pubblicità mi direte che si tratta di un gioco per ragazzine ma effettivamente si può spingere un marchio proponendo comunque prodotti o anche giochi di qualità abbiamo già visto altre volte ad esempio giochi sulle Barbie io ho preso ovviamente i più eclatanti per giochi brutti e vi dico una cosa che potrebbe sorprendervi molti giochi o meglio ancora film sulle Barbie ad esempio sono fatti davvero molto bene e curati a tal punto non solo per magari spingere determinati prodotti ma riescono effettivamente a farti passare ottimi momenti con storie interessanti e personaggi realizzati bene e ve lo sto dicendo io da maschio etero Rock Angels invece è spazzatura e pubblicità messa nello stesso calderone e sputate in maniera violentissima sullo scaffale sotto forma di gioco PS2 Gamecube e PC ma non per questo non merita di terminare la sua vita inutile con un tocco di stile a Grazie a tutti Beh, direi che anche oggi abbiamo fatto il nostro lavoro Da me e la fionda portatile da borsetta Penso sia da veramente tutto Ci vediamo ad un prossimo video Grazie a tutti